Vecchi oggetti abbandonati, cornici che da tempo non contenevano più nulla, sedie e poltrone che avevano perso la loro dignità e giacevano in una soffitta, da rigattiere o pronte a finire in discarica. Cose vecchie e abbandonate che un geniale artista come Rocco Guastella, tappeziere per professione, creativo per passione, ha restituito loro nuova vita, rendendole ancora più belle di come erano in origine. C'era due volte e il titolo della mostra che l'artista artigiano di Prattosesia ha voluto allestire nel Salone Santa Marta a Omenia, un titolo che non è certo casuale, come non è casuale il luogo in cui Guastella espone le sue opere, la città di Gianni Rodari. All'inaugurazione erano presenti, insieme al sindaco di Omenia Paolo Marchioni, i colleghi di Grignasco, dove ha da anni operato Guastella e Prattosesia, dove vive oggi. Poltrone, sedie, ma anche quadri con tessuti rari, in qualche caso recuperati da vecchie stoffe e rifatte integralmente, compongono la singolare esposizione. La mostra resterà aperta sino al 26 settembre e che vale la pena andare a vedere. Non fosse altro, se non per ricordare a noi stessi, che nessun oggetto invecchia mai, ma può, con fantasia e voglia di fare, tornare a nuova vita. Un po' come il barone Lamberto di Rodari, il c'era due volte, al quale adesso possiamo aggiungere, e c'è ancora.